Per me essere napoletano è un motivo di orgoglio, sono uno che la napoletana nasce nel DNA, vengo da Piazza Mercato, quindi da un quartiere popolare e l'ho sempre detto a Napoli è tutto più bello, sia a livello lavorativo che a livello sportivo, quando si vince a Napoli ha un sapore diverso. L'obiettivo è quello di rappresentare un marchio importante al femminile, di far crescere un divaio di ragazzine, le scugnizze nostre in questo segmento che prima era quasi proibitivo, le famiglie si stanno adeguando ai tempi del calcio femminile perché prima era complicato far giocare a 11 giocatrici, invece oggi abbiamo il problema inverso, non riusciamo a soddisfare tutte le ragazze che vogliono giocare e che siamo in tante, quindi un successo sicuramente per Napoli e per queste ragazze e io spero veramente che a breve avremo tante napoletanee in squadra, oggi ne abbiamo una sola, Paola Di Marino, che ci rappresenta veramente alla grande. Il femminile è più bello sicuramente, è più passionale, è più di valori e credo che il professionismo possono cambiare tante cose. Io sono dell'interior, mi piace molto vivere in luoghi così e ovviamente la cultura e lo che significa per un argentino, lo che hizo Maradona qui nel Napoli. Oggi, grazie a Dioci, in Argentina il futbol femminino sta un pochino crescendo, ma senza sì, sacando il femminino e il mascolino, per l'argentino, tutti lo sappiano, il futbol è tutto. Voi vas a qualche lato e ti puoi parlare d'Argentina del tango, magari della comida e del futbol, il futbol non può faltare per noi. Io lo dico sempre, è successo per queste ragazze essere viste. Stati i pini, significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo composto. Grazie.